Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta oggi uno dei principali problemi in Africa. Proprio nei pressi di Dakar esiste la più grande discarica dell'Africa occidentale, chiamata Mbubes. Per scoprire meglio il luogo e le sue dinamiche di gestione siamo stati a Malika, dove abbiamo intervistato Malik, che da anni vi lavora. L'altro, la città di Kallori, che si sono un pizzerra a me raccogliare i Nicolai, che dort i risultati e i lavoratori santi, che si sono più grande, cosa dobbiamo fare in faccia, a tutte le scoprire, vi ringrazio, e si sono avicati fuori, … e anche questo periodo, Sono finito. Non è che non c'è così, non è in attesa. È da questo a me, qui c'è sempre. Questo è sorpre Suite, ci sono una possibilità di fare le bani, ma che sarebbe così. Perché, quando si era guanello, a parlare con i c fascinatingi, Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.